Come KGM e come Kelliker abbiamo una proposizione per il cliente flotte che si basa su una gamma già molto densa, una gamma prodotti già molto densa, che parte da Tivoli, penso al Corando, che è il nostro C-Sub, in motorizzazione benzina ma anche diesel, seguito dal suo fratello maggiore, il Rexton, un D-Sub, uno dei pochi disponibili attualmente in configurazione sette posti, fino ad arrivare a quello che è il Rexton Sport XL, il nostro pick-up, un doppia cabina con una portata che arriva fino a una tonnellata. A una gamma prodotti così densa affianchiamo una proposizione volta all'utilizzo, penso a collaborazioni importanti come quella con C-Autobank e con tutti i maggiori noleggiatori che ci permettono di offrire al cliente flotte soluzioni che vanno dal leasing fino al noleggio con soluzioni sia di mid che di long term.